con la piede in massima pressione e cercate di scegliere un attimo alterniamo 5 volte con la piede 5 volte con l'altro per 2 volte quindi in totale su 10 più 10, 0, 5 mantenete un attimo e anche poi quando se possibile sempre una volta avanti quando andiamo avanti devo partire con l'appoggio del tallone appoggia il tallone chiede massima pressione prova a spingere e andare un attimo bravo